Oggi presento ufficialmente la mia candidatura alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio, una candidatura frutto di un'esperienza di 17 anni sul territorio della provincia di Varese, come amministratore locale a Varese prima e in provincia poi. Tanti sono i temi di cui si occupa Regione Lombardia, dalla sanità ai trasporti. Noi punteremo una grande attenzione su queste tematiche per rendere la sanità ancora più efficiente, per rendere più rapidi e efficaci le risposte di protosoccorso, per abbattere le liste di attesa che oggi sono troppo lunghe e poi sul tema dei trasporti per garantire un servizio più efficace e più efficiente con un investimento importante sul materiale rotabile, quindi treni e carrozze e poi una grande attenzione ai temi della sicurezza. Sicurezza per i viaggiatori, sicurezza per chi staziona nelle stazioni ferroviarie della nostra Regione che oggi sono non troppo sicure purtroppo, quindi ci vuole un implemento della videosorveglianza e un sostegno alle forze dell'ordine per mettere nelle condizioni di operare al meglio delle loro possibilità. Poi tante altre tematiche, la cultura, le infrastrutture, il lavoro, molto importante. Noi non crediamo nel modello del reddito di cittadinanza, ma crediamo in un modello che incentivi il più possibile le aziende a formare, ad assumere e a creare sviluppo e posti di lavoro. Queste sono le nostre proposte, le proposte di un centrodestra moderato dove Forza Italia, riteniamo, possa avere un ruolo centrale come al Governo nazionale e così anche al Governo di Regione Lombardia.